Ufficiale, Potter non è più del Chelsea, il comunicato. Londra l'avventura al Chelsea di gran Potter è già finita. L'ex tecnico del Brighton ha deciso, di comune accordo con il club inglese, di chiudere qui il rapporto. In casa Chelsea si tratta del secondo cambio in panchina in stagione, Brighton aveva sostituito Thomas Tuchel nello scorso mese di settembre. La posizione in classifica, undicesimo posto in Premier League, e gli scarsi risultati. L'ultimo il K.O. in casa contro l'Aston Villa ieri, sono accostati la panchina a Potter. Chelsea, il comunicato sull'esonero di Potter il Chelsea FC ha annunciato che Gran Potter ha lasciato il club. Gran ha accettato di collaborare con il club per facilitare una transizione senza intoppi. Il Chelsea desidera ringraziare Gran per tutti i suoi sforzi e il suo contributo e augurarli ogni bene per il futuro. Bruno Saltor assumerà la guida della squadra come capo allenatore ad Interim. Virgola